E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto, io sono Emiliano e anche oggi andiamo insieme a fare l'analisi tecnica, a capire quello che sta accadendo sui mercati delle criptovalute, in particolare Bitcoin, Ethereum sta performando veramente molto bene e nel video di oggi voglio svelarvi quello che è il mio prossimo trade che ho adocchiato nella giornata odierna e appunto spero vi piaccia e spero vi possa tornare utile anche a voi quindi prima di partire come sempre se questi contenuti vi piacciono e li reputate utili vi chiedo come sempre il vostro aiuto a far crescere questo canale appunto è come fosse il vostro canale diciamo mi piace che sia una crescita appunto insieme a voi quindi come sempre un bel mi piace più che gradito iscrivetevi al canale con clic sulla campanellina anche per i nuovi in quanto sono contenuti time sensitive in questo caso esempio vi faccio vedere un trade quindi è importante essere sul pezzo essere lì col timing corretto perché un timing non corretto su un trade diciamo che non porta gli stessi effetti sperati ecco quindi ve lo condivido volentieri partiamo partiamo prima con l'idea di quello che sta accadendo su Bitcoin perché la struttura è bullish a me piace molto mi piace molto quello che è successo in questo momento perché abbiamo avuto un dump di Bitcoin e un recupero un recupero perfetto dove sulla 50 oraria 50 oraria che si dimostra ancora una volta interessante come area d'ingresso e soprattutto a contatto con questo cluster che l'abbiamo testato come come supporto in questo caso ci ha fatto appunto da supporto ci ha rispediti a 58 nel momento in cui ovviamente sto registrando è interessante il movimento che sta facendo Bitcoin perché secondo me è una fase comunque di uptrend che sta mantenendo il prezzo potremmo anche andare a tracciare quella che è una trend line da questo minimo vedete molto bene come si sta mantenendo molto molto forte quindi attenzione alle trend line anche un ritaccio di questa trend per poter proseguire quello che sto tocchiando io su Bitcoin su una fase appunto di crescita è area 60 mila dollari in giornata siamo arrivati a toccare 59 l'abbiamo sfiorati e rigettati attenzione perché potrebbe essere un livello chiave ok per capire anche nel breve cosa vuole fare e se vuole andare veramente a fare un v-shape completo e quindi recuperare completamente zona 64 quindi andrà a ritestare secondo me il suo all time high non abbiamo quasi nulla ragazzi al di sopra abbiamo solo i 60k secondo me se manteniamo l'uptrend abbiamo i 60k e poi siamo liberi di poter andare a vedere come andrà la nostra action se avremo ancora forza per poter provare un nuovo all time high che sarebbe veramente ottimo ottimo come è la total market cap che oggi va a fare un nuovo all time high ragazzi perché torniamo a sopra sopra i 2.22 siamo a 2.24 nel momento in cui registro quindi v-shape recovery della market cap completato e total 2 che neanche vado a commentare più di tanto perché è blue sky breakout per le altcoin che continuano continuano a performare l'avevamo detto ragazzi nel video precedenti quanto erano forti le alz confermato da una dominance in costante calo e addirittura va a perdere questa base qui che stava andando a creare sui 49 circa è andata a perderlo e ora è in caduta libera 48 e 49 ragazzi se va così davvero secondo me sulle alz se ne vedono delle belle io voglio passare perché sono abbastanza fremo da dire questo trade a vedere prima ethereum usd perché ethereum usd è ovviamente in all time high e sapete cosa penso no degli all time high cioè quando andiamo su così non abbiamo particolari riferimenti possiamo continuare a crescere e dobbiamo capire dove poterci fermare quello che sto adocchiando io on trade su bitcoin ethereum ok perché perché intanto su 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 riferimenti particolari su ethereum dollaro abbiamo la 50 che ci ha fatto da ottima buy area l'avevamo già parlato 50 ema quindi la linea rossa che vedete qui sotto però ora è un po' distante stiamo sfruttando la 12 non mi sento così confident a tradare su dollaro ma mi sento molto più confident a tradarlo su bitcoin e vi spiego perché e vi spiego come come ho strutturato questo questo trade andiamo a vederlo assieme allora voglio farvelo vedere completo ve lo faccio vedere sul daily si capisce meglio perfetto allora quello che voglio fare io in questo caso è andare a sfruttare il grafico completo di ethereum bitcoin perché il grafico di ethereum bitcoin completo vedete ha avuto dei livelli significativi nel 2017 su zone col suo top a 0.15 cosa è successo dopo questa lunghissima fase appunto di ribasso ok della coppia ethereum bitcoin abbiamo avuto finalmente un break un break importante di questo livello qui ora andiamo a zoomare un break importante di questo livello qua che è zona 0.46 confermato e rotto il trade che voglio provare è un trade di lungo periodo diciamo o meglio di lungo e di breve voglio mettere due take profit il primo è appunto un entry quindi sopra la chiusura al di sopra della giornata odierna di 0.53 9 ok che rappresenta che cosa rappresenta il superamento appunto di un livello importante per il prezzo scusate che se no non lo vedete bene ok perfetto che è il livello appunto che vedete qui in prossimità dove è stato supporto per il prezzo ok dove ha rimbalzato il prezzo quindi una chiusura al di sopra potrebbe voler dire che abbiamo conquistato questa zona qua ora per i più conservativi potete si può provare a fare un ritest di questa zona e prosecuzione quindi chi vuole può anche aspettare un eventuale ritest però se volete essere un po più aggressivi si potrebbe valutare appunto un ingresso su questa zona qua ok quindi ho scritto qua entry su chiusura confermata dov'è lo stop loss lo stop loss sta alla perdita di questo precedente high ok quindi eventualmente qua sotto io vado a inserire uno stop loss e quindi una chiusura con quindi da un trade circa un meno mi da un meno 12 un meno 13 per cento circa ok quindi questo è il mio stop loss la size ovviamente valutatela voi in base al vostro portafoglio mi raccomando a proposito io non lo ripeto sempre ma non sono consigli finanziari di investimento quindi questo è quello che penso di fare io e quindi ve lo condivido volentieri però mi raccomando con testa non ci mettete i soldi del vostro tutto il vostro conto qua sopra e assolutamente questi non sono consigli finanziari però stop come vi dicevo qua sotto take profit one ok primo take profit dove andrò a chiudere circa vedrò un po come andrà il prezzo però circa immagino un 50 per cento della posizione è in questa zona qua 0.65 perché perché è una zona altrettanto di contatto dove il prezzo ha fatto da supporto ok quindi cosa vuol dire vuol dire che qua io mi aspetto un po di resistenza e un eventuale put back ok quindi eventualmente in questa zona qua andrò a settare il mio primo take profit circa del 50 per cento e valuterò un eventuale rientri su un eventuale appunto massimo e minimo quindi crescente take profit 2 ok lo scenario più più favorevole è lo 0.85 perché perché va in pur rispondenza di questo precedente top quindi il mio trade fondamentalmente va a valutare un potenziale profit nel primo caso di circa un 20 per cento complessivamente si può valutare un circa addirittura 58 per cento questo è un trade contro bitcoin ok quindi non in dollari l'obiettivo qui è accumulare bitcoin però secondo me può essere interessante perché si sta formando una struttura finalmente rialzista confermata ok e quindi con uno stop abbastanza stretto perché si parla di un 12 13 per cento si può andare secondo me a fare un ottimo un'ottima tradata rischio rendimento molto interessante su questa su questa struttura anche perché trattiamo nomi abbastanza più capitalizzati quindi fondamentalmente mi aspetto meno volatilità rispetto a un trade su alcune al coin ovviamente ragazzi non metteteli pari pari ok perché il mercato tende a frontrannare quindi può essere che magari ve li mettete sugli 0.63 64 insomma non proprio 0.65 cercate un pochino di frontrannare o di scalare le entrate uguale vale per l'entrata potete andare a scalarla nello stesso modo non tutto subito ma andare leggermente a accumulare la vostra posizione credo che questo sia un trade interessante fatemi sapere magari qui sotto nei commenti se vi piace lasciatemi un mi piace se appunto la pensate come me oppure vi fa piacere ricevere anche questi contenuti perché è una cosa un po' diversa solitamente analizzo solo il mercato però ci tenevo a darvi qualche chicca sapete che se la ho ve la condivido super volentieri quindi mi raccomando fatemelo sapere qui sotto nei commenti se vi piacciono anche questi approfondimenti volevo darvi un'ultima visione anche su dot e bnb dot recupera i 37 nel momento in cui sto registrando molto bene perché vi ripeto rientrare qua vuol dire andare ad attaccare i 40 dollari e poi giocarci tutto nella parte alta dot sapete cosa ne penso quindi non serve che mi dilungo e bnb perché ragazzi bnb fa un altro 6% di nuovo il time high e bnb si sta affermando davvero come un progetto che sta dando veramente tanto la chain funziona veramente bene vediamo tantissimi progetti sulla bsc decollare e quindi ottimo per chi è esposto in bnb noi avevamo ancora qua la tradata che avevamo fatto appunto rottura triangolo e target preso io ragazzi mi fermo perché non voglio andare oltre vi chiedo come sempre un bel mi piace per supportare questi contenuti iscrivetevi al canale col click sulla campanellina e noi ci vediamo domani mattina col morning week crypto ragazzi intanto vi auguro una buona serata ciao